Gentilissimi, bentrovati all'appuntamento di oggi, mercoledì 20 dicembre. La giornata oggi è ricca di appuntamenti macroeconomici, tra cui spicca la conferma dei tassi di interesse da parte della People's Bank of China, un evento atteso dal mercato. Un altro appuntamento di rilievo è l'inflazione nel Regno Unito. I dati di novembre mostrano un calo, contrariamente alle previsioni di crescita. In Germania l'indice GFK segnala un miglioramento del sentiment dei consumatori, un dato che potrebbe avere un impatto significativo sul mercato. Dagli Stati Uniti sono attesi importanti aggiornamenti, la fiducia consumatori e quello sulla vendita immobiliare. Il Fuzzimib riconferma in chiusura la quotazione di ieri e vediamo dal grafico che a circa un'ora dopo l'avvio aveva toccato un minimo a 30.200 per poi risalire a 30.360. Il DAX ha oscillato a ridosso dei 16.750 e termina poco sopra questo valore con una sensibile variazione positiva. A Wall Street in evidenza il Nasdaq che ieri aveva toccato un nuovo massimo storico sopra i 15.000 e oggi riapre poco sopra questa soglia. Ben impostato anche il Dow Jones anch'esso sui top di periodo sopra ai 37.750 più 0,13%. Il peggior titolo del Fuzzimib di oggi, A2A, perde poco più di un punto e mezzo percentuale. Il Dowgrade emesso dagli analisti di UBS ha incentivato le vendite su banco BPM. Nello stesso settore ha arrancato anche B per meno 1,21. Perdite comprese entro il punto percentuale per Ferrari e Ricordati. La nota più lieta di giornata invece è Telecom Italia, di gran lunga maglia rosa anche gratte alla notizia che vedrebbe il governo spagnolo acquistare telefonica per l'appunto in Spagna. Seguono il più 1,39 di Veco, il più 1,28 di Inuit, ma anche Eni e Moncler riescono a salire di un punto abbondante. Sul mercato valutario troviamo un euro-dollaro in leggero calo in una giornata, come vedete dal grafico a due facce. Scende anche il cross euro-yen, mentre il cambio sulla sterlina è invece in risalita. Ed ora spazio all'analisi del trader Pietro Di Lorenzo. Ospite delle interviste di Traderlink di oggi, Pietro Di Lorenzo, trader indipendente, ideatore di SSTrader e degli eventi investing. Daremo con lui uno sguardo ai mercati in quest'ultimo scorcio del 2023. A te la parola. Sì, buongiorno, grazie mille per l'invito. I mercati stanno consolidando, stanno consolidando un'annata straordinaria, mostro il grafico dell'indice italiano, da cui è evidente questa salita veramente importante. L'indice arriverà a chiudere l'indice italiano con un rialzo non molto inferiore al 30%, considerando anche i dividendi. E quindi l'impressione che ho è che dopo le scadenze tecniche di venerdì, come è anche un po' evidente dal grafico, siamo entrati in questa fase un po' di consolidamento. Nessuno ha voglia di rovinare le performance dell'anno, considerando che anche parte dei profitti e addetti a voto è spesso legata anche alle commissioni legate ai risultati e al contempo neanche si ha particolarmente voglia di prendere iniziative di lungo termine, probabilmente si rimano alle scelte nel corso del 2024. Quindi il consiglio che mi sento di dare da qui alla fine dell'anno borsistico è quello di limitare un po' l'operatività, anche le size considerando che i volumi sono più sottili e godersi questa bella annata magari proiettandosi già nel 2024 dove mi aspetto un mercato certamente diverso rispetto a quello di quest'anno in cui lo scenario di tassi diversi, ovvero tassi che non cresceranno più, ma sostanzialmente ormai è certo che inizino a essere tagliati che poi nella misura e nelle forme che vedremo fra Fed e BCE imporrà un atteggiamento diverso, un atteggiamento che probabilmente andrà a premiare dei temi che sono passati un po' in sordina nel corso del 2023, quindi penso alle mid-cap, alle small-cap, penso ad esempio anche ai settori ciclici, al tech che più beneficiano alle utilities dei tassi che decrescono e poi con una logica globale potremmo anche andare a riscoprire dei mercati come quello cinese che non hanno fatto benissimo. Quindi insomma, adesso siamo più focalizzati sul festeggiare, è giusto che sia così, il Natale è un'ottima annata borsissima e con l'occasione, Rossana, approfitto per salutare te e porgerti gli auguri di Natale e di un buon anno insieme a tutta la tua, alla vostra community. Io ti ringrazio Pietro e naturalmente ricambio e intanto approfitto dell'occasione anche per rimandare l'appuntamento a questo punto al 2024. Volentieri, grazie. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi rinnovo l'appuntamento a domani, arrivederci. Grazie.